Bene, fido sul fatto che a questo punto abbiate l'idea abbastanza chiare sul ciclo while in generale per proseguire con la nostra applicazione particolare, che cioè la lettura di un file di testo e di una sua successiva elaborazione. Però, prima di buttarci a capofitto nei meandri di un file esportato con Excel, cominciamo con una cosa leggermente più semplice. Accontentiamoci di vedere qual è il ciclo liscio-liscio che legge e stampa sul video il contenuto di un file di testo. Come vi spiegherò meglio con più dettaglio quando parleremo di stream, e nello specifico di stream collegati a file fisici, i progettisti del linguaggio C++ hanno in un certo senso idealizzato, astratto il concetto di file, assimilandolo a quello più generico, più generale di flusso di byte, proveniente da una sorgente qualsiasi. Questo consente di trattare con gli stessi comandi flussi di byte provenienti ad esempio dalla tastiera, che siete abituati a gestire con l'operatore di estrazione maggiore maggiore, CIN maggiore maggiore per intenderci, o da un file, immaginando il flusso dal primo byte di quel file fino alla fine del file, o addirittura da una stringa. Di nuovo, scandendola da sinistra verso destra, ci ritroviamo il concetto di un flusso di byte, che può essere consumato un poco alla volta, avanzando da un inizio, che sia l'inizio del buffer della tastiera, l'inizio del file o l'inizio di una stringa, fino alla fine. Oltre al vantaggio di gestire in modo omogeneo, con comandi e tecniche simili, tutte queste possibili fonti, un grossissimo vantaggio è che un domani potrebbe aggiungersene un'altra. Perché non definire a questo punto un flusso di byte corrispondente a ciò che ci arriva da un collegamento internet, e più in generale, da una periferica qualsiasi. Ma rimaniamo un pochino con i piedi per terra e iniziamo con questi benedetti file. Serve un include, che è questo. File stream. Prima di continuare, scriviamo col blocco note, o anche con l'editor del codeblocks stesso, un file di testo contenente quello che volete. L'importante per codeblocks è che si trovi questo file, per agevolare le nostre operazioni, lì dove c'è anche il file CBP, codeblocks project, perché di default imposta le cose in modo tale che la ricerca dei file indicati nei comandi di apertura di questi file, di preparazione all'uso, siano automaticamente cercate come cartella di default, quella che appunto contiene il file di progetto. Attenzione perché altri ambienti come il devc++ invece predispongono le cose in modo che i file vengano cercati, se non indichiamo noi in modo esplicito un path, un percorso di ricerca nel comando, come vedremo tra poco, nella cartella dell'eseguibile, quindi bin o debug a seconda delle versioni che state utilizzando. Dove c'è l'exe insomma. E che, detto tra noi, mi sembra una scelta più intuitiva. Va bene, io procedo come da codeblocks e creo un nuovo documento di testo. I nomi sono solo nomi per i file in Windows, non è l'estensione che fa il contenuto. Aiuta a capire quale dovrebbe essere il contenuto. Ma nulla vieta di cambiare l'estensione di un punto exe e trasformarlo in un punto txt. E non è che abbiamo convertito il file, abbiamo solo gabbato il povero utente, lasciandogli pensare di avere a che fare con un file diverso, ma in realtà il contenuto poi è ancora quello. Dati.txt, questo è il contenuto, particolare e importante, andate a capo perché per avere meno problemi di portabilità tra piattaforme hardware e software con sistemi operativi diversi, è richiesto appunto questo endline finale, la capo finale. Adesso leggeremo il contenuto programmaticamente di questo file e lo riproporremo sullo schermo. Ed è lì che andremo a utilizzare perché è il ciclo veramente più adatto, un bel ciclo while. Per leggere dobbiamo istanziare, il termine diventerà pienamente comprensibile quando andremo a parlare anche di OOP, programmazione ad oggetti, che qua stiamo utilizzando perché comunque non è poi così complicato, almeno per quello che stiamo facendo. Dicevo, stiamo istanziando, cioè creando un esemplare di un oggetto di tipo ifstream, chiamato f, input, la i, f è di file e stream flusso. Quindi stiamo preparando, indicandolo con f, un oggetto stream di input da file, come la tastiera sarebbe invece, se volete il cin, uno stream di input da console, console cin. In. Tra parentesi, al momento dell'istanziazione dell'oggetto f, di nuovo qua dovremmo sapere qualche cosetta di OOP, forniamo la stringa o la variabile stringa che contiene il nome del file che vogliamo aprire. Attenzione, possiamo anche specificare eventualmente qui un percorso, ma occhio, quando mettete questo carattere, che può essere interpretato come l'inizio di una sequenza di escape barra D, che se poi giusto o corretta non importa, lui si prepara a riconoscere una sequenza di escape e il tutto porta adeguai, dovete raddoppiare, in modo tale che la sequenza di escape di queste due barrette verranno interpretate come una singola barretta. Ok, non voglio approfondire troppo i file, tolgo, questo è abbastanza intuitivo. Stiamo chiedendo di preparare alla lettura il file fisico chiamato dati.txt, che verrà cercato a fianco del file di progetto. Possiamo anche fare un test sul buon esito dell'operazione, che potrebbe fallire per mille motivi. Il file non è lì, è stato cancellato, ho scritto male il nome, è stato cambiato il nome, è rovinato il disco, ma in generale possiamo fare un controllo senza discriminare esattamente che cosa eventualmente è successo, ma solo è andata bene, è andata male, con un bel if, classico if, su f. Se f è in uno stato valido, ha come espressione logica un valore logico corrispondente a true, quindi vuol dire se f è in uno stato valido, cioè abbiamo aperto con successo il file. E' questo quindi lo schema completo. Se l'abbiamo aperto con successo, utilizziamolo, altrimenti messaggio d'errore. Attenzione, a questo punto potremmo anche anticipare la chiusura di questo file, dopo l'utilizzo, che è un'operazione molto importante da ricordare. Come vi spiegherò meglio quando tratteremo i file. In stile OOP, sugli oggetti possiamo richiamare dei comandi come il close, utilizzando la cosiddetta notazione punto, f punto, accedo al contenuto, diciamo così, di f, tra cui è presente anche la funzione, che di fatto poi è una funzione, close, il comando close. L'importante è anche resettare l'oggetto F, perché se durante l'uso di F, la parte che andrei adesso a scrivere qui, si riscontra qualche problema, fine file, un file parzialmente rovinato, vengono settati dei bit all'interno di F, che rimarrebbero settati, e ci impedirebbero di usare questa F, dopo aver chiuso il file, per leggerne degli altri. Per cui, chiudo, resetto tutti i bit di stato con questo clear, dopodiché, volendo, qua sotto potrei riutilizzare F con un altro file. La logica del ciclo while che sto per scrivere è, finché il tentativo di leggere una riga da questo file ha successo, usa la rigaletta e poi riprovaci. Ed ecco il ciclo, il più corretto, secondo me, per consumare una riga dopo l'altra, tutto il contenuto del file. Get line è il comando a cui, come parametri, forniamo un riferimento al file, da cui, quindi, estrarre la riga, prendi la riga, get prendere line la riga, da F, e quella riga che terminerà con la capo, la andrà a memorizzare in questa variabile che ho predisposto, e che ho chiamato appunto riga. Ma c'è un effetto collaterale nell'utilizzo di questo get line, perché, d'accordo, abbiamo la memorizzazione della riga letta qui. Ma come fa il ciclo while ad usare questo comando per terminare? Beh, il get line restituisce un valore, che è un riferimento al file stream, all'IF stream stesso, e se lo stato di questo F è corretto, cioè siamo riusciti a leggere una riga, allora il valore logico di questo riferimento a F è equiparato a true. Se invece non ce la fa a leggere la riga, F è in uno stato, e quindi il valore restituito da get line pure, che invece è assimilato come valore a false. Per cui, riesco a leggere questa cosa qua, vale true, e si va a stampare la riga letta. Il file è terminato, il get line fallisce, F non è più in uno stato di valido, ma è in uno stato di fine file. Bene, quello è interpretato come falso, quindi il get line restituisce falso, non qualcosa che è falso, e il ciclo while termina, e si va alla chiusura del file. Proviamo. Benissimo. Abbiamo anche la conferma, non è una dimostrazione, però, che il get line la consuma tutta la riga, cioè non si ferma agli spazi, ma si ferma alla capo, che è qui in fondo, ad ogni riga. Ma prima, quando dicevo che il file stream è equiparato a uno stream come il cinno, stavo scherzando, guardate, ho commentato questa parte, e l'ho gestita con l'operatore di estrazione, maggiore e maggiore, come se qua ci fosse cin, giusto? Quindi, sto estraendo da f, come se stesse estraendo dal console input cin, e ciò che leggo lo invio alla variabile riga. Anche l'operatore di inserzione restituisce un valore che è assimilato a vero o falso, a seconda che ce l'abbia fatta a leggere qualcosa oppure no. Ma qual è il problema? Il problema è che questo operatore interrompe l'estrazione dei caratteri quando trova un carattere bianco, ad esempio lo spazio. E quindi il risultato è che, dal suo punto di vista, qua fa una lettura, qua ne fa un'altra, una terza, una quarta, una quinta, una sesta. Infatti, ecco ciò che verrebbe stampato. E questo è quanto? Avete visto che è veramente semplice? tutto quello che serve per leggere il contenuto, tutto sommato è concentrato in questa dichiarazione, facile il ciclo while, noi preferiremo quello col get line, naturalmente, e la chiusura. Adesso siamo veramente pronti per leggere il file csv esportato con Excel, ma lo vedremo nel prossimo video. A risentirci.